Ciao mitici, ViolaBlog numero 67 Allora amici, in questo sabato di maggio che fa un cardo della madonna Stancante proprio sto caldo Vi voglio parlare di un sito, un sitino Questo sito è Twitter Diciamo, il nuovo Facebook, chiamamolo così anche se non è proprio uguale Però in America e negli altri stati Qui vediamo il mondo Sta veramente spopolando Perché Twitter, cos'è in pratica? È un sito molto semplice come grafia, molto minimale La grafia è tutta in inglese ovviamente Perché ancora qui in Italia non è arrivato ancora, diciamo, a noi Noi italiani arriviamo sempre dopo, purtroppo, nelle cose E niente, vi voglio parlare di Twitter Praticamente Twitter è un sito dove noi possiamo Innanzitutto è molto semplice perché La grafia appunto è semplice, ci chiede E noi possiamo pubblicizzare il nostro blog Un nostro sito internet Un nostro aggiornamento sul nostro sito internet Ma possiamo anche parlare, possiamo anche esprimere Cosa stiamo facendo in questo momento Allora, andiamo a aprire il nostro bel Twitter www.twitter.com E questa è la grafica Come vedete io mi sono già iscritto Guerzo 86 Ho messo l'amelina dell'Apple Allora, praticamente qui Noi ci registriamo Modifichiamo la grafia del nostro canale Un po' come YouTube E possiamo appunto scrivere Dei tag dove la gente ci può ritrovare Ad esempio io ho messo Apple, iPhone, Mac, YouTube Ho messo un po' di tag E io qui, quando il sito mi chiede What are you doing? Per esempio, pubblicizziamo il mio canale YouTube Mettiamo per esempio iPhone, Mac, Apple, Nikon Mettiamo and anymore E sotto mettiamo subscribe And subscribe on my channel E ci mettiamo www.youtube.com Slash user Slash Guerzo 86 Facciamo su update E come vedete Ho scritto cosa sto facendo In pratica non ho scritto che sto facendo un video Però io voglio pubblicizzare il mio canale E voglio pubblicizzare i miei video Allora, da quando mi sono iscritto a Twitter Ho avuto un 3-4 iscrizioni Subito Non in Twitter ma nel mio canale YouTube Di persone straniere Persone americane, inglesi Ora non so bene Comunque persone non italiane Quindi come vedete Twitter funziona Chiaramente, come ho detto Qui in Italia È ancora poco conosciuto Perché noi abbiamo Facebook Adesso siamo presi da Facebook Mentre in America Tutti quelli che erano iscritti a Facebook Si sono spostati in Twitter Twitter è un sito molto molto semplice da vedere Molto molto semplice da entrare Qui possiamo Abbiamo la nostra home Abbiamo il nostro profilo Che possiamo modificare Abbiamo il nostro Find people Cercavo le persone Il settaggio Vabbè Help Se vogliamo uscire Qui abbiamo Io sto seguendo 38 persone Quindi Mi Verranno messi I commenti qua Infatti vedete Di tutte le persone Sto seguendo E vari aggiornamenti Vedete Apple secret Apple rumored to Hello Limited iPhone multitasking With iPhone OS 3.0 Into mobile.com Qui c'è il sito Il link Se noi apriamo il link Come vedete Mi butta nel suo blog Vedete Con la notizia Quindi è un modo Molto carino Molto semplice Per pubblicizzarci I nostri Bei video Di youtube Per esempio E' una cosa Che faccio io Quindi raga Io Se fossi in voi Mi iscriverei Perché Adesso Non è tanto Un osciuto Ma vedrete Tra un po' in Italia Sfonderà twitter Sono convintissimo Vedete Ho 15 persone Mi seguono Ogni tanto Mi viene Mi viene Come cazzo Dice Vengo aggiunto Da alcune persone Molti sono Allora All'inizio Vi verranno Delle iscrizioni A vostro twitter Di Di Cazzate Tipo Porno Sta roba qua Ma è roba normale Perché ancora Non essendo tanto Non usciuto C'è molto schifo Dentro Però insomma Tanti Tipo Iphones Apple tweets Insomma Alcuni sono Veramente utili Qui c'ho Il grande Will Wush Vedete Uno scrive Anche quello Che sta pensando A questo momento Buono raga Questo era twitter E per il viola blog Oggi è tutto Ci sentiamo Al prossimo Viola blogs Non credo domani Perché domenica Domani ci si riposa Ci sentiamo lunedì Quindi Un salutone a tutti Grazie a tutti I nuovi iscritti Siamo arrivati Andiamo a vedere A non poco 169 iscritti Niente Niente male Davvero Grazie a tutti Mitici Al prossimo Viola blog Un salutone a tutti Buona domenica A tutti Grazie a tutti Grazie a tutti